Ciao, questo è un video faccia del giorno, vi parlo di alcuni prodotti dei quali non vi ho mai parlato e vi faccio vedere questo è il trucco occhi questo è il viso e queste sono le labbra parto dal viso, come base ho utilizzato il fondotinta della Deborah, il Dress Me Perfect, questo qui io ce l'ho nella colorazione 03 Sand vabbè, devo pulire la pompetta perché avendolo utilizzato da poco resta comunque il prodotto mi è rimasto un pochino lì sulla pompetta mi piace, non ha una coprenza alta, ha una coprenza leggera ma anche per questo mi piace io non sopporto consistenze troppo pesanti sul viso e mi piace il fatto che vada ad uniformare bene l'incarnato io ne utilizzo veramente poco perché ho sempre paura che utilizzando una quantità maggiore vada a fare un pochino l'effetto pastone non sono una che cerca una coprenza alta, non ho tantissime cose da coprire diciamo la cosa che cerco io è coprire principalmente i rossori che ho sul viso poi se devo coprire qualche imperfezione tipo oggi vado ad utilizzare comunque un correttore ma mi uniforma bene il viso, è leggero e devo dire che mi arriva bene fino a sera nelle giornate in cui ha fatto comunque più caldo devo dire che un pochino si è andato a sciogliere non c'era un brutto effetto sul viso però la sera quando sono andata a struccarlo ne era rimasto veramente molto poco però diciamo che principalmente le utilizzo in quelle giornate in cui fa molto molto più freddo perché comunque è un fondotinta leggero ma dà un effetto proprio naturale sul viso e mi resta bello fino a sera nelle giornate in cui fa più freddo probabilmente qui c'è scritto che adatta a tutti i tipi di pelli non lo so perché sinceramente l'effetto è molto naturale e è abbastanza luminoso ma è luminoso non pieno di glitter è luminoso e basta e sicuramente penso che per una pelle grassa non possa andare bene per il mio tipo di pelle che al momento è missa ma abbastanza secca va abbastanza bene insomma su di me poi come correttore ho utilizzato il Fit Me della Maybelline per le occhiaie in questo periodo tra occhiaie e borse è un disastro perché diciamo che riesco a dormire abbastanza a poco e nonostante utilizzi contornocchi mattina e sera però si vede che è un periodo in cui è abbastanza stressante insomma questo correttore a me piace l'ho utilizzato sia per le occhiaie ma anche per coprire un brufolino che avevo qui e diciamo che poi con quello che era rimasto sul pennellino sono andata anche ai lati del naso mi piace però per le occhiaie ora che sta finendo perché praticamente non è rimasto quasi niente è diventato troppo pastoso infatti se vedete tende comunque ad evidenziarmi abbastanza le rughette che ho nel contorno occhi insomma mi va comunque molto ad evidenziare comunque le linee d'espressione ecco all'inizio non era così ora è diventato molto più pastoso non so forse perché sta finendo però come coprenza per quanto riguarda il colore io ce l'ho nella colorazione 20 va benissimo come colore lo preferivo all'inizio perché secondo me aveva una consistenza meno densa poi ho provato a fare una specie di contouring e ho usato la cocoa contour questa ha il pennellino vabbè all'interno io non ho mai utilizzato ancora questa è la palette io ho utilizzato questo colore qui che si chiama medium cocoa che è questo qui ho provato una volta ad utilizzare l'illuminante che è questo qui ma per i miei gusti è troppo troppo esagerato perché ha dei glitter non so purtroppo da qui non voi non li vedete ma ha dei glitter veramente grandi e dorati all'interno e questa qui invece la light cocoa ancora non l'ho utilizzata che è questa qui ma mi sembra luminosa ma senza comunque glitter all'interno sì infatti all'interno i glitter non ci sono come la maggior parte delle polveri di Too Faced ho notato che comunque si sfuma molto molto bene cioè sono riuscita a non fare chiazza io che sono abbastanza impedita e si sfuma molto molto bene e c'è un buonissimo odore di cacao che a me piace tanto ora chiederò consiglio magari ad Astrid perché ho visto che lei ce l'ha e la utilizza anche molto spesso per quanto riguarda l'utilizzo comunque della polvere quella illuminante senza glitter e per quanto riguarda l'illuminante perché se non sbaglio lei l'illuminante è questo con i glitter dorati non lo usa questo della palette ma chiederò conferma ad Astrid poi come blush ho utilizzato questo di Pierre René il Rouge Powder questo qui questa è la colorazione 02 Pink Fog non si vede ma fidatevi che è Pink Fog ed è questo bellissimo colore qui questo è un rosso con tutti dei glitter ha delle luminescenze più che altro dorate all'interno è un... non rosso ma è un rosa malva con molte luminescenze sull'oro eccolo qui è molto molto bello si sfuma veramente molto molto bene ed è molto pigmentato scusate se guardo in alto ma c'è il mio vicino di casa che è fuori sul terrazzo e mi guarda siccome ci divide solo una strada siamo praticamente a penso 20 metri mi guarda come se io fossi pazza giustamente perché parlo da sola va bene comunque è questo qui a me questo piace molto e ha una buonissima durata nell'arco della giornata comunque la sera quando mi strucco lo vado a struccare non fa diciamo effetto chiazza perché si sfuma veramente benissimo e questo è uno di quei blush che io vado a prelevare con il blush brush di Real Techniques perché comunque è molto pigmentato e quindi riesco a stenderlo e a sfumarlo allo stesso tempo poi per quanto riguarda gli occhi come base sempre lo shadow insurance di Too Faced poi sopra sono andato a fare un'ulteriore base con Stormy Pink di MAC il Paint Pot che è questo qui questo colore a me piace veramente tantissimo è questo colore qui mi piace proprio tanto l'ho utilizzato molto anche da solo devo dire ma mi piace sia come base per dei trucchi sul grigio tipo questo che ho oggi ma anche come base per dei trucchi sul rosa perché secondo me sta bene in entrambi i casi poi il trucco occhi l'ho fatto totalmente con la Naked Smoky questa non ve ne ho mai parlato ma è uno dei miei autoregali di Natale me ne sono innamorata da quando l'avevo vista dalla Simon che mi sembra era settembre lei aveva fatto un video anche in cui ci si era truccata mi piaceva tantissimo poi ho preso altre cose e ho lasciato perdere per Natale con il 20% me la sono comprata i colori vabbè l'avrete vista in tutte le salse i colori sono questi qui e a me piace veramente tanto vabbè i colori quelli con le breccole come dice mi spenni ci sono perché comunque i più glitterati si tendono comunque a fare un po' di fallout quando li andate a stendere ma trovo che ne facciano meno rispetto alla Naked 3 che ho io per i miei gusti io ho utilizzato Armor che è questo qui su tutta la palpebra mobile ma veramente leggero e mi piace il colore che ne viene fuori ne viene fuori dall'ombretto che c'è sotto ed è questo qui poi nella piega ho utilizzato nella piega dell'occhio ho utilizzato Password che è un grigio meraviglioso questo qui veramente bello poi diciamo per intensificare leggermente l'angolo esterno ho utilizzato un mix di Smolder che è questo viola qui e Dagger che è quest'altro grigio qui ma sono veramente bellissimi sono super scriventi ora se riesco ve li faccio vedere e sono 1 2 3 e 4 e sono questi qui non ho capito perché questo non mi scrive quando prima con il pennello scriveva va bene questi qui poi nel sotto l'arcata sopraccigliare invece ho utilizzato Canvas che è questo qui che è diciamo un rosato ed è questo colore qui purtroppo da qui non si vede è questo qui eccolo è questo qui è un colore rosato anche questo però io trovo che gli ombretti si sfumano molto molto bene sono tutti molto pigmentati perché nonostante gli swatch questo è quello che mi è rimasto comunque sulle dita e è una palette con la quale si possono fare sia trucchi comunque più naturali per esempio utilizzando questi qui o comunque questi matt qui ma anche più scuri che siano degli smoke più semplicemente magari per intensificare un look un pochino più naturale secondo me è una bella palette anche un bel mix di colori perché ci sono sia questi nude che sono sia shimmer che anche matte e secondo me l'insieme è molto bello dei colori a me piace un sacco poi vabbè si sfumano bene e anche questa mi piace poi nella rima interna inferiore ho utilizzato la matita di essence la numero 05 gun metal delle gel eye ed è questa qui questa qui invece come specie di riga di eyeliner ma io non sono in grado di farla quindi per quello che faccio io ho usato il master precise liquid eyeliner che è questo qui e questo è questo qui mi piace perché con questa punta così fina riesco comunque a fare delle linee abbastanza sottili mi piace proprio tanto io infatti ce l'ho sia così che marrone ma mi sembra di aver visto che c'è anche in grigio ora voglio andare a vedere perché riesco ad utilizzarlo anche insomma di mattina andando abbastanza velocemente perché grazie alla punta così fine non devo stare molto molto attenta insomma ad essere proprio precisa perché riesco comunque a gestirla bene e mi dura tranquillamente tutto il giorno come mascara pensavo di non averlo preso ho utilizzato il pupa vamp questo ve ne ho parlato nel video dei top è un mascara che a me non piaceva per niente e ora invece mi sta piacendo proprio tanto allo scovolino fatto così e mi sta piacendo tantissimo per l'effetto che mi da sulle mie ciglia la prima confezione proprio l'avevo odiata perché mi si era addensato subito non riusciva a gestirlo bene non mi veniva mai un bel effetto ora questo è il risultato sulle mie ciglia e a me piace tantissimo ce l'ho aperto da settembre adesso oggi è il febbraio sì e quindi sono passati diversi mesi ma è ancora perfetto mi piace proprio tantissimo questo mascara è un mascara comunque che va lavorato resta comunque un mascara di quelli che non è così semplice da assendere perché comunque quando tiro fuori lo scovolino devo pulirlo perché altrimenti diciamo che lo scovolino ne preleva molto però nonostante questo nonostante magari devo stare a pulire lo scovolino mi piace talmente tanto il risultato che va benissimo così per le labbra invece ah non vi ho detto vabbè la matita per le sopraccia è una matita di slick è la eyebrow pencil che è la numero 191 che non mi piace per niente perché è una matita molto molto dura cioè ha la mina molto dura ma nonostante questo quando voi la andate a passare si scioglie abbastanza velocemente nel senso che la mina tende a non mi viene la parola allora è una matita che si termina velocemente perché nonostante non sia morbida comunque ogni giorno la devo temperare perché la mina tende a scendere abbastanza velocemente ma ha la consistenza sia della matita che del legno che è molto dura quindi ogni volta che la vado a passare mi porta via la maggior parte dei peletti a fianco a dove vado a riempire i buchi insomma e non mi fa impazzire sulle labbra invece ho utilizzato uno dei gossamer di kiko questo è il numero 109 ed è questo bellissimo colore qui veramente veramente bello io con i gossamer mi trovo molto bene ne ho 3 4 forse 4 si e devo dire che mi trovo molto molto bene su di me resistono tranquillamente molto molto a lungo non mi fanno comunque non si accumulano non vanno nelle pieghette non mi seccano particolarmente le labbra e hanno veramente una buonissima durata su di me mi piacciono molto quando ho le labbra particolarmente secche tipo nelle scorse settimane ho avuto le labbra veramente secchissime prima vado a stendere un burro cacao perché altrimenti non riesco a stenderle in maniera uniforme ma adesso che le mie labbra stanno abbastanza bene mi piacciono molto mi hanno chiamato quindi si è chiusa la registrazione stavo dicendo che comunque sono abbastanza confortevoli sulle labbra su di me resistono bene e i colori che ho mi piacciono molto devo dire poi è tutto molto soggettivo perché per esempio so che a Cristel non piacciono e lei non ci si trova bene nemmeno come resa sulle labbra per me per i miei gusti a me questi piacciono tantissimo però è tutto molto soggettivo dipende sia dalle labbra sia da quello che uno si aspetta dal prodotto a me piacciono tantissimo e niente ragazzi questo era tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao